eccoci qua bentornati nel nostro canale ultimate music training oggi è un placidissimo giovedì e ci siamo con questa nuova diretta che ho annunciato qualche giorno fa legata al mondo sconfinato e molto complesso della gestione di un progetto musicale stiamo creando tantissimi contenuti nuovi ok in questo tipo di situazione di argomento quindi aspettatevi tanti video diciamo non direct live ma appunto dei video pillole per approfondire ancora di più e sicuramente anche dei video corsi che riguardano appunto la gestione di un progetto musicale faccio una premessa che non ho programmato assolutamente niente a livello di script per questa diretta andrò con uno stream of consciousness in quanto credo di essere tra virgolette molto molto esperto ventennale esperienza ventennale esperienza come musicista ma soprattutto come persona che ha lanciato anche diciamo con un si può dire grande successo diversi progetti musicali sia offline quindi band che non hanno nessun tipo di dimensione dal vivo che band che fondamentalmente hanno poi fatto tour che hanno fatto live con con artisti importanti dischi soprattutto singoli e p eccetera quindi partiamo subito il primo disclaimer è molto molto semplicemente quello legato al fatto che questa diretta non è pensata per chi ha dei progetti musicali di livello hobbistico di livello amatoriale cioè la classica band o ancora di più cover band tribute band della domenica che fa il concertino tra virgolette al piano il classico localino no delle mie zone o altri giusto così per divertirsi quindi parto subito dicendo questo se voi rientrate in questo tipo di categoria e quindi che siete insomma musicisti hobbistici no dopo lavoristi chiamiamoli come come ognuno li vuole chiamare questa diretta non fa per voi però comunque delle soluzioni che riguardano tra virgolette il la gestione anche di una band che potrebbe essere non lo so appunto una tribute una cover band una band che suona i matrimoni cose così ma io mi rivolgo soprattutto a tutte le persone giovani grandi o anziane che siano che hanno uno o più progetti musicali reali quindi dove si scrive musica dove si produce musica originale e dove noi anche con grandi investimenti portiamo poi la nostra musica dal vivo in concerti in tra virgolette situazioni legate appunto a festival serate di vario genere quindi parto subito con il discorso principale gestire una band è come gestire un'azienda ok tutte le band di più grande successo nei vari generi io parlo per esempio che ne perugini flash quad apocalypse che sono una band con cui ho collaborato singolarmente con vari musicisti e che suonano da tantissimi anni e che hanno appunto una grande grande impegno di vari schedule no appunto tour e robe varie ma ci sono tante band appunto anche in altri generi che hanno raggiunto dei livelli altissimi proprio perché funzionano come un'azienda un'azienda dove esiste un leader o uno due tre leader ma tendenzialmente meglio averne uno che diciamo comanda la situazione che gestisce tutto il discorso legato al songwriting che gestisce tutto il discorso legato all'organizzazione di prove di concerti di rapporti con etichette rapporti con management con fornitori magari di strumenti endorsement eccetera eccetera quindi se il vostro progetto che sia nato da poco o decennale dovete identificare innanzitutto in primis chi è questa persona tra virgolette che potrebbe essere eletto diciamo tra virgolette eh democraticamente come il leader io quando ho fondato la mia prima band storica i the source con cui ho fatto ben due dischi collaborando anche con artisti come mike marian the monuments per il secondo album alla batteria ambition che eh con band con cui noi abbiamo fatto appunto apertura importantissime architects comeback kid eccetera eccetera protest the hero dance strange monuments eh marchionist eccetera giro per l'italia io sono sempre stato essendo ideatore della band e anche del concept dietro la band il nome è stato creato diciamo singolarmente da me e da giacomo il secondo chitarrista ritmico fondamentalmente sono sempre stato quello che dirigeva un po il gioco e quindi che scrivevo le canzoni l'ottanta per cento novanta per cento dei pezzi anche delle singole canzoni sono state scritte da me e dall'altro chitarrista ma principalmente da me perché ai tempi che saluto magari vedrà la la diretta eh era un mio studente di chitarra molto bravo che coinvolsi appunto in questo progetto come secondo chitarrista come secondo songwriter ma diciamo la maggior parte uso anche il gesto no para verbale cinestesico eh la la maggior parte delle tra virgolette cose fisiche che poi sono state fatte con questo tipo di progetto sono venute fuori da me nel senso il nome dei i nomi dei dischi le canzoni l'accordatura del della chitarra del basso che noi eravamo accordati tendenzialmente in drop c a quattrocentotrentadue non a quattro e quaranta come gestire appunto i rapporti con etichette che sono stato io a portare quindi c'è sempre un leader che deve essere identificato il prima possibile e che deve prendersi la responsabilità tra virgolette di eh gestire tutte queste dinamiche le prove eh persone che entrano e se ne vanno dal progetto poi ne parleremo successivamente quindi identificato chi è il leader soprattutto tendenzialmente la è la persona che poi scrive le canzoni è la persona che poi ha le idee riguardo ai vari dischi quindi il nome del disco la tematica del disco come dove verrà registrato tutto quanto successivamente eh ci sono degli accorgimenti che riguardano la dimensione della scrittura delle prove e della organizzazione fisica logistica della band allora tutte le band eh di professionisti parlo band come appunto archenemy parlo come band di band come potrebbero essere che ne so nickelback qualunque altro gruppo molto molto importante molto famoso tendenzialmente fa delle prove estremamente selezionate cioè un tour magari si fa una prova generale abbastanza lunghetta quattro cinque ore tre ore quello che è ma poi finisce lì cioè è un falso mito questa è un'informazione che potete riparire un po' dappertutto è un falso mito che bisogna fare mille mila prove tutte le settimane tutti i mesi per arrivare ad essere bravi a suonare dal vivo e a fare un bello spettacolo perché questo perché il vero lavoro del musicista deve essere fatto in casa e quindi il bassista il batterista il cantante il tasterista violinista quello che io parlo anche per ensambolo di musica classica o altro deve lavorare dietro le quinte quindi è un falso mito che tu debba suonare paradossalmente sempre soltanto durante le prove le prove servono per tendenzialmente due elementi ok che sono fondamentalmente elementi legati alla prova appunto di una scaletta di rodaggio per un tour o per dei concerti e quella per assemblare delle parti di canzoni e di singoli o di album che vengono composti che prima sono state composte e nella prova cerchi un attimino di dargli una quadra generale molte canzoni per esempio che io ho scritto sia per i resource che per i tempi mio progetto diciamo black and post hardcore di north woods con cui ho fatto un ep e diciamo per insomma per il rotto della cuffia anche qualcosa che ha confluito poi nell'ambul successivo wasteland primo ep è un omonimo north woods si chiama le avevo scritte a casa i riff e le varie i vari arrangiamenti hanno stati fatti qua dentro dentro questa stanza quasi dieci anni fa nel 2016 quindi è un falso mito che tu debba arrivare alle prove sprovvisto di materiale su cui lavorare e concentrare le prove solo su un'enorme sessione di songwriting perché perdereste tantissimo tempo che invece deve essere dedicato alla alla borlime e quindi a come ci si veste come si le varie mosse che si devono fare durante il concerto le cose che hanno bisogno di un backup di lavoro precedente e quindi insomma sommando i vettori appunto punto primo identificare un leader che deve essere lui o lei se è una donna ovviamente questo discorso vale per entrambi i sessi una donna o un uomo che portano avanti il progetto anche a livello di immagine tendenzialmente il leader è la persona che fa anche le interviste è la persona che che gestisce tutti i rapporti con etichette e tutto quanto per esempio nei key switch engage grandissima band si può dire new wave of american heavy metal o metal core chiamatelo come volete che mi ha ispirato tantissimo il vero leader della band non è il cantante che è il frontman ma è il chitarrista ad uschievich che è stato ed è tuttora nelle mie più grandi ispirazioni ha prodotto tantissime band metal core non ed hanno avuto un grandissimo successo i primi due dischi di parco e drive under tutto the find the great line che è il loro più bel disco from motion to ashes all the devin townsend anche lì che sia produttore cantante chitarrista ritmico solista bassista batterista cioè veramente un genio si può dire e quindi una volta identificato il leader dovete imparare a gestire anche a livello umano poi parlerò di gruppi whatsapp gruppi telegram robe varie appunto la gestione delle prove meglio fare una prova al mese ok se si vive anche in città diverse poi ne parlerò di questo meglio fare una prova al mese fatta in maniera estremamente selettiva senza distrazioni e questo è il terzo punto dove si prova tutta la scaletta o dove si arrangiano dei pezzi che sono già stati composti precedentemente io parlo anche di band come per esempio i new disorder con cui ho suonato per qualche mese nel 2021 si può dire ormai come turnista loro arrivavano in saletta una saletta di proprietà divano il bassista della band che saluto e già avevano tanto materiale su cui lavorare che riguardava ovviamente pezzi già composti quindi tu arrivava in saletta facevi tutta la scaletta e poi magari a fine a fine prova provavi a incastrare dei pezzettini che hanno già stato posto quindi è importante questo quindi ci sono tante anche altre interviste in canali youtube molto interessanti come chitarra facile eccetera dove vedi dei professionisti che ti raccontano appunto ho fatto questo mega tour con gli arcenemi e loro fanno una prova sola prima di un intero tour non è che ne fanno 20 perché danno per scontato che tu da solo studiare devi suonare devi 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 esercitarti col metronomo devi esercitarti con le basi devi esercitarti a improvvisare a spaccare il culo con lo strumento che sia chitarra che sia basso batteria non importa e le prove servono solo per come fiorello occhiello come cittadina sulla torta quindi risparmierete soldi risparmierete tempo e si chiederà quella amalgama per cui diventa un ritmo ciclico terzo punto le prove appunto devono essere organizzate tendenzialmente in momenti in cui tutti siamo liberi ovviamente soprattutto se si viene da mi ricordo il batterista del new disorder insomma no veniva da 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 praga ogni volta se prendeva l'aereo per fare le prove una volta al mese aveva anche un lavoretto suo insomma come informatico saluto erano già tutti organizzati nel senso che tu vai alle prove appunto sapendo che dovrai spaccarti il culo ma in un in una finestra molto piccola quindi il il momento in cui tu entri in saletta che sia una saletta esterna quindi una scuola di musica con delle sale prove oppure altro devi essere preparato e oltre a quello la saletta in sé deve contenere solo ed esclusivamente strumenti casse compressori equalizzatori cioè non devono esserci distrazioni ok io negli anni ho visto tante situazioni anche come arrangiatore produttore esecutivo artistico e anche fisico dove la band andava a fare le prove e c'era l'xbox con lo schermo birre cazzate carte da gioco fifa pro evolution soccer cioè tutto tranne che quello che serviva in quel momento per essere estremamente produttivi quindi questo è un altro aspetto magari se avete una saletta prove privata un garage o quello che è è normale ogni ora due ore quello che è fare una pausa per chi fuma la classica pausa sigaretta la pausa birretta ma la sala prove è un è un momento dove si deve lavorare non è un momento di distrazione non è un momento dove tu vai lì e cazzeggi non è un momento dove vai lì e spippoli con mille mille effetti devi essere focalizzato per quell'ora quelle due ore quelle cinque ore dieci ore devi fare solo quello tendenzialmente e questa cosa produrrà un effetto pazzescamente buono perché tutte le distrazioni xbox playstation nintendo boom 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 tutte le varie consoline no di videogames con lo schermo no davanti che sta lì a cazzeggiare il frigorifero con le birre le carte devono essere tra virgolette cassati dal dal principio perché si instaurerebbe poi un meccanismo perché tu vai a fare le prove e ti spari il cannone per chi fuma marijuana lo dico in maniera molto brutale non sono io ma sono tante le band che hanno questo tipo di difetti non voglio aprire questa mega parentesi però ci siamo capiti cioè tu devi andare lì che sai già che dovrai lavorare e se hai mille mille distrazioni una dopo l'altra e cazzo come come fai poi dopo a tra virgolette essere produttivo io parlo soprattutto per chi deve poi suonare o cantare per tanto tempo quindi questo è quindi tornando al discorso appunto un leader quindi chi è che comanda e chi decide per tutti democraticamente nella band tra una cosa in altra avere la capacità di avere delle prove non mille mila prove al mese ma farne una massimo due e poi basta in maniera tale da concentrare tutto quanto e poi fondamentalmente quello che il luogo delle prove deve essere un luogo neutro ci devono essere soltanto input musicali dei poster foto della band niente stronzatine con console di videogames televisione o altro perché devi fare fare quello e nel tempo quarto punto appunto che riguarda l'organizzazione dei via dentro questa stanza come potete vedere ci sono diverse cose custodi e amplificatori testate casse chitarre no anche chitarre magari che utilizzo soltanto per insegnare la mia diciamo chitarrina classica precisa quindi fondamentalmente l'ambiente deve essere organizzato in maniera tale che ci sia meno dispersione possibile a livello di tempo se avete delle date per esempio è molto importante avere anche un backup che riguarda le prove in questo senso cioè della serie se nella saletta prove ci sono tutti i vostri amplificatori eccetera eccetera magari utilizzate delle soluzioni diverse che riguardano il live quindi ne ho parlato già in diversi tips su instagram e su facebook di umt dove puoi utilizzare un fractal audio xfx invece di un amplificatore un quad corte e tutto quello che ti pare quindi diciamo il punto successivo è che a livello organizzativo il musicista deve essere provvisto sembra banalissimo questo ma lo dico in maniera pesante di tutto quello che è necessario i near monitors per il per il per il click se utilizzate il click o altro fate simulatori digitali per chitarra per basso se dovete fare tante date perché come ho detto in diversi tip su instagram tra virgolette sono molto più affidabili di una testata perché in un tour la testata può schioppare le valvole si possono rompere che si rompa un quad cortex che è un affarino così che costa quasi 2000 euro e si può collegare a mille milla casse direttamente è molto più difficile ok e gli strumenti devono essere di qualità io compro soltanto chitarre sopra 3000 euro da anni o artigianali o altro perché so che se mi cadono no dal insomma vi racconto questa con i the source nel nostro diciamo percorso di di promozione di dirty happiness nel 2014 dovevamo andare a fare una data con i destra di process the hero safety fire e decontortionist ok all'inizio ci sarebbero dovuti essere dei faceless ma purtroppo insomma sappiamo com'è andata a finire con michael kin che ha problemi di dipendenza eccetera eccetera presi il van feci mille mille robe a un certo punto mi ero scordato di chiudere la custodia della chitarra di telemaco questa qua la mia prima chitarrona tra virgolette no questa la mia prima chitarra cadde da un'altezza molto alta sull'asfalto si roppe cioè non si fece praticamente niente se l'avessi pagata mille euro invece di 2500 non fosse stata fatta a mano molto probabilmente si sarebbe rotta ok quindi il vostro gear deve essere estremamente professionale e di alta qualità la differenza tra una batteria da mille euro una diecimila è abissale anche perché sono tutte cose che tra virgolette nel tempo vi dureranno e quindi che avranno molti meno problemi di manutenzione e tutto quanto ecco quindi già già questo è importante quindi se dovete avere un pa system integrato nel in er dovete comprarlo insomma tutto deve essere perfettamente organizzato così che magari insomma no io mi ricordo quando ci hanno chiamato per andare a suonare con gli architets nel 2014 cioè si parla di una band che ha quasi un milione di like su facebook quindi si parla di un gruppo enorme e eravamo lì per lì un po sprovvisti abbiamo tutti organizzati come una testata al volo che poi la mia angle quella sotto che comprammo lì fino a quel momento paradossalmente non aveva non ne avevamo mai avuto bisogno però è arrivata l'occasione in cui ne avevamo bisogno e quindi bam questo ci porta ovviamente faccio un'altra postilla che farò in un altro video un video girato sto giro in un gruppo si va alla velocità del più lento che significa che il successo di una band e di un progetto musicale è legato soprattutto alla diciamo consapevolezza e all'affidabilità dei membri e questo sarà una parentesi che ne parleremo in altri in altri video in altre dirette cioè se esiste altri due tre quattro cinque venti personaggi comunque devono viaggiare alla velocità del leader altrimenti se tu sei in una band dove lavori solo tu fai tutto tu le canzoni tu i test i testi tu paghi tutto tu è normale che nel tempo si sfilaccia questa cosa questa è una piccola parentesi arrivo al diciamo punto successivo che riguarda un aspetto estremamente importante che io sviluppo poi nelle coaching con ultimate music training sul nostro sito le potete prenotare tranquillamente o scrivendo in un messaggio privato dove una band deve avere assolutamente degli obiettivi concreti tornando al discorso iniziale se la vostra band è un gruppo dove cioè non è una band di paese tribute di vasco ma è un gruppo originale metal pop gent rock matcore jazz qualunque genere dovete porvi degli obiettivi che sono a breve termine medio termine a lungo termine individuo perché senza questo tipo di proiezione nel futuro e quindi il fatto che tu in un anno magari dici voglio arrivare a fare tot concerti voglio arrivare a fare tot condivisioni like stories tiktok quello che è voglio arrivare a tot dischi entro tot anni vuoi cioè devi prendere un pezzo di carta soprattutto scriverli e visualizzarli per raggiungerli per questi obiettivi io mi ricordo che quando ho iniziato ad entrare appunto nel professionismo dopo il mio primo disco nel 2013 da lì sono venute fuori mille mille altre opportunità noi pensavamo ancora eravamo agli albori si parla di più di dieci anni fa comunque in termini obiettivi se una band non ha un obiettivo verrà coinvolta in questa sottospecie di marasma dove ogni tanto fai una data ogni tanto fai un'intervista se va bene ogni tanto tiri fuori qualcosa ma non basta dovete avere in maniera chiara specifica programmata e sistematica degli obiettivi da raggiungere che sono concerti una band si solidifica nel tempo se fa almeno tot concerti quindi se non avete abbastanza concerti sotto mano magari dovete collaborare con una booking e quindi fondamentalmente anche a pagamento perché faccio questa piccola postilla la maggior parte delle etichette discografiche medio grandi sono a pagamento cioè hanno dei gettoni di presenza la maggior parte delle booking medio grandi quelle gigantesche no ma oppure sì ma dipende dal progetto sono a pagamento quindi ci deve essere anche questo discorso la maggior parte di quello che fa una band nei primi cinque dieci anni della propria vita a pagamento tra virgolette non c'è nessuno che verrebbe al posto tuo a finanziarti quindi torniamo al discorso che appunto gli obiettivi devono essere eh tarati a seconda di quelle che sono gli obiettivi personali e gli obiettivi eh di eh di gruppo e quindi date e quindi interviste e quindi cover magari per promuoversi online tutto quanto ne parleremo in alto diretto quindi questo è e gli obiettivi portano poi dopo a generare una sottospecie di routine per cui tu hai eh delle cose da fare nel singolo per esempio io la la seconda parte del duemila ventitré l'ho dedicata molto alla eh produzione dei dei miei contenuti legati al disco dei Yolamoth Path of Divinity che uscirà praticamente fra un mese sei mesi fa sto disco era dentro un harddisk di un computer ancora da mixare adesso è praticamente finito perché c'eravamo posti dato primo disco dei Yolamoth RAM sulla guadavanti lo potete trovare ovunque insomma Spotify, Deezer, YouTube eccetera ma è stato un altro obiettivo raggiunto perché noi l'avevamo amplificato e organizzato quindi questo è se una band non ha degli obiettivi entrerà in un giro di situazioni che eh riguardano mh band non professionistiche non band professionali cioè cose che tu stai lì ogni tanto fai una data magari sempre negli stessi posti ogni tanto fai una collaborazione sempre con la stessa eh perdi tempo le prove le fai ma non le fai scrivi canzoni ma ci metti mille mila anni a produrle quindi questo è andando avanti eh il lato economico altro obiettivo altro altro tassello di questo puzzle questo pezzettino allora unico estremamente importante una band di professionisti innanzitutto deve avere l'obiettivo fisico e realizzabile questa è una cosa che mi ha detto anche in privato quando faceva appunto da manager il bassista del Flashbook Apocalypse Paolo Rossi che ora ha mollato la band ma lo saluto che disse ai tempi dei primi fixe solemnis tra virgolette ci disse una band deve arrivare al punto da essere completamente autofinanziata con il merchandising con le vendite se si vendono e con i concerti quindi tu non devi arrivare dopo anni che hai una band dove insomma no fondamentalmente arranchi fa due passi avanti tra indietro e quindi per i primi tempi per esempio quello che facevo io con il new disorder è che mensilmente noi mettevamo 50 euro nella cassa della band anche se non facevamo niente soltanto le prove o soltanto per produzione di un singolo nuovo perché questa cosa andava poi rinpinguata e ottenuta se eh tra virgolette c'era un evento tipo andavamo siamo andate sull'ancalabria due date la benzina e i caselli autostradali e i vari noleggi delle varie cose che poi noi avevamo insomma ai tempi arrivano c'è un un van suo un furgone suo una macchina insomma non è quello il problema però venivano presi da eh da quel fondo cassa ok fondo cassa dove fondamentalmente eh veniva eh un po' gestita tutta questa roba qua ok quindi invece di andare a spendere con dei soldi lì sul momento la maggior parte venivano presi dal dal fondo cassa che era stato creato precedentemente poi ci sono anche i soldi economici dove eh eh c'è da produrre un disco tendenzialmente bisogna organizzarsi precedentemente alla registrazione che sia un disco fatto in casa con tutta una serie di soddisfazioni oppure altro eh bisogna dividere le spese questo è un altro un altro un altro discorso molto importante cioè c'è una spesa importante magari il leader appunto io per anni sono stato quello che magari investiva più di tutti sparava robe più di tutti ma perché gli altri ragazzi magari alcuni che poi sono anche andati via e questo sarà il prossimo passo e non avevano le stesse disponibilità economiche o se non avevano le stesse disponibilità economiche erano persone che lì per lì i primi tempi sì voglio avere successo voglio la band voglio quello ma poi dopo non venivano le prove non c'erano voglia non mettevano una lira erano sempre in vacanza cioè tante problematiche come vi ho detto prima in un gruppo si va la velocità del più lento dove devi essere tu voglio ma intervenire come leader ok quindi cambiare persone eccetera quindi c'è un disco che costa 5 mila euro produrlo da zero registrarlo mixarlo masterizzarlo editarlo eccetera quei 5 mila euro se siamo in 5 vanno divisi per 5 quindi mille euro a testa non che c'è sempre lo stronzo scusate il termine come sono stato io per anni che investiva tutto lui lavorava gratis faceva e gli altri godono solo dei frutti del lavoro di qualcuno che mentre leader appunto no vanno messe in chiaro queste cose anche e qui c'è un aspetto legato al mondo della legalità musicale del diciamo del giudicpudenza musicale e cioè il fatto di scrivere un contratto altro punto importante cioè tra le persone che lavorano sotto lo stesso tetto che siano metallica o che siano una band di paese ci deve essere un contatto un contratto scritto una scrittura privata tendenzialmente si utilizza o comunque un avvocato che deve stilare proprio il contratto standard dove si mettono in chiaro le cose clausole se una persona se ne va dalla sera alla mattina con delle penali obblighi che riguardano il funzionamento della band tante tante cose che finché sono in the air cioè nel senso sono che non le tocchi no il cloud sì sì ci sono non ti preoccupare ollo mi interessa anche a me bla 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 poi le cose vanno male tendenzialmente attichiare amicizia lunga quindi oltre al discorso economico al discorso del fondo cassa e della gestione delle prove e tutto il resto il leader tutte le cose di cui abbiamo parlato in un gruppo serio di persone che lavorano perché la musica è un cazzo di lavoro non è un gioco non è un hobby per certe persone non è un'attività frivola che basta che strimpelli quattro accordi sei un musicista è un lavoro come fare l'attore come fare lo scrittore come fare il poeta o insomma qualunque altra il pittore qualunque altra cosa a livelli alti io ho una carissima amica diciamo di tanti anni fa che è diventata una bravissima pittrice lei vive con la sua armi non è un gioco non ha fatto l'academia col massimo dei voti triennale magistrale perché è un giochino e fai dipintini è una che spacca il culo che sa utilizzare colori che sa disegnare che sa dipingere eccetera quindi la musica deve essere presa seriamente e quindi quest'altro punto che mi viene così stream of consciousness appunto per avere successo e il successo può essere anche pubblicare un album quanta gente vuole fare mille cose e poi dopo la prima difficoltà molla o non ha le palle di inseguire i propri sogni tantissima perché la musica va presa seriamente se vuoi veramente farne un lavoro o un'attività remunerativa anche part time quello che è ma non un hobby quindi andando avanti per esempio un'altra cosa interessante è gestire una sala prove come ho detto prima io tutte le sale prove più fighe che ho visto o erano dei garage noi noleggiavamo con diciamo una fee mensile di 40 50 100 euro a dividere in 4 5 in una cifra veramente ridicola o erano situazioni tipo ivano dei new disorder aveva se non sbaglio adesso la vuole vendere una uno studio di registrazione musica e salette prova di proprietà e quindi noi andavamo lì c'era l'angoletto fuori dalla saletta l'angoletto che riguardava il frighino con le birre con le coca cole era vicino a due tre pizzerie dei bar quindi non facevamo fatica per mangiare e era sotto la casa di ivano che ha una casetta molto carina a roma in zona prenestina quindi io andavo là facevo il viaggio no quindi parlando adesso di un aspetto collaterale e cioè una band che riguarda appunto membri che vivono in stati in diverse dello stesso stato se voi siete più o meno tutti i stili di tiba nella stessa robina quindi che sia una stessa città o una provincia simili è molto più facile perché per vedersi non dovete fare come mesciuga ai tempi di cast 33 che si mandavano i rif per email ma vi potete vedere fisicamente in maniera molto facile magari anche con un'unica la macchina uno fa il giro e boom 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 ma se tra virgolette vivete in altra città poi ci organizzeremo con dei contenuti ad hoc su questa cosa tra virgolette a lì l'organizzazione anche legata a tra virgolette come si mandano i file tutte quelle robe lì deve essere perfetta ok deve essere eh gestita benissimo ok se eh una o più due o più persone vengono da un'altra città io per andare a provare con il disorder facevo tre ore di macchina tre ore e mezzo di macchina perché due ore e mezzo si volevano per arrivare a Roma in quella zona poi un'ora solo per trovare il parcheggio quindi alle riandatevi a prendere la diretta sul self management tante cose dovevano essere organizzate bene strumenti dovevano avere delle custodie di un certo tipo la macchina va a funzionare dovevano avere del cash per avere tutto quello che riguarda il discorso appunto e in questo caso i tendenzialmente io consiglio l'utilizzo di delle piattaforme che riguardano l'organizzazione appunto di concerti e di della gestione della band che sono molto famose appunto whatsapp e telegram whatsapp un gruppo un gruppo whatsapp comunque utilizzato con altre persone può essere utile a livello comunicativo e quindi la serie io ho un gruppo whatsapp con il mio gruppo x perché in quel gruppo si parla del disco si parla del singolo nuovo si parla e magari un gruppo telegram sempre identico con magari meno persone quindi senza il produttore di turno senza l'etichetta di turno solo per il discorso dei file e quindi whatsapp si utilizza per il cazzeggio e per le comunicazioni to cure e poi telegram essendo molto meglio di whatsapp a livello come programma in sé è infinito cioè veramente io lo sto imparando usare da poco dopo anni e anni che lo utilizzavo ma è una roba next level cioè whatsapp in confronto è piccione viaggiatore o la fionda è nulla non ha nessun tipo di limite di spazio ai server a gruppi che sono organizzati cioè è tutto talmente perfetto che appunto bisogna farlo usare ma telegram potrebbe essere utilizzato per mandare delle preproduction dei file grossi logic pro tools studio one cubase nuendo quello che è magari delle sessioni che le schiaffi lì o dei video per salvarli nel cloud che tu magari cioè quindi dobbiamo imparare a utilizzare le varie piattaforme e poi anche social perché anche qua poi dopo eh nella seconda parte della diretta parlerò appunto di come promuoversi tutto quanto magari usando un pochini qualche qualche esempio ok quindi whatsapp utilizzatelo per le comunicazioni telegram utilizzatelo per la gestione dei file le comunicazioni importanti lo stoccaggio dei file e tutto quanto io ho tantissimi gruppi whatsapp band io ho la mod fiction slam miss i mix and affection ai tempi di source ma raramente ci schiaffavo dentro intere sessioni di registrazione perché whatsapp non lo permetteva foto che rimangono in hd la maggior parte dei file che mi mandano gli umt sono tutti mandati su telegram dai vari collaboratori che mi organizzano come luca toccacelli che mi manda i vari file quindi arrivato a questo primo pit stop per prima della seconda parte conclusiva avete visto quanti punti riguardano la gestione di una band perché nel lungo periodo sono vari scenari che si possono aprire se una band non cresce ok non cresce anche a livello di social quindi like condivisioni engagement visualizzazioni concerti eccetera è ovvio che si possono aprire vari scenari io tendenzialmente preferisco negli ultimi sette otto anni ho fondato tantissimi progetti nord encefalus respiro il mio nuovissimo progetto doom che lancerò l'anno prossimo con un singolo holamot fixe su lemnisk xenofaction per quanto riguarda il band death metal il mio disco il mio progetto solista quindi diciamo bisogna anche saper capire dove vuoi arrivare e tutti i vari imprevisti cioè gestire una band che suona dal vivo implica il fatto che quella quel nucleo di persone deve poi fondamentalmente saper mantenere lo stesso ritmo per tantissimi anni e cioè se c'è un problema con un membro deve essere in grado per esempio questa è una delle ultime cose io vi dirò stasera devi essere in grado di gestire poi dopo la dipartita di quel membro con e qui lo dico innanzitutto ogni volta che componete un qualcosa una canzone un singolo un album soprattutto dovete avere come backup le basi se cercate un cantante delle basi senza voce se cercate un batterista delle basi senza batteria e via discorrendo se cercate un chitarrista delle basi senza chitarra bla 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 e delle trascrizioni della vostra musica io so suonare a memoria praticamente tutta la roba che ho composto ma se domani io alla morte dovessero andare a fare un mega tour mondiale e io ho la gamba rotta o sono impegnato perché sono diventato padre o quello che è fondamentalmente non posso poi dopo andare in tour e devo avere una persona che nel giro di dieci giorni si impara tutte le canzoni che devo fare quindi farsi fare se non lo si è in grado di fare da soli con guitar pro o qualche altro programma si belli o su tutto quello che ti pare direzioni esatte di quello che fa il chitarrista o il bassista ok? o due io nel tempo ho collaborato tantissimo con un mio ex pupillo che è un bravissimo produttore anche lui Giovanni Rosellini che mi ha saluto ha lavorato con tantissime band, Led and Fall, anche tantissimi altri quindi l'idea è che appunto avere queste cartelle dentro poi e quindi ne parliamo dopo stoccate in maniera tale da essere accessibile a tutti quindi fai un gruppo Telegram appunto come ho detto prima con delle sub cartelle Dropbox o Google Drive a me Google Drive non piace prevesco di gran lunga Dropbox o altre cose simile Mega per esempio ne parleremo in un altro video che è una interessantissima applicazione di stoccaggio logistico dei file che si può amplificare insomma anche a pagamento con mille e milla giga di terabyte disponibili cloud quindi va via un chitarrista ovviamente tornando al discorso di prima ci devono essere delle clausole corale legate a questo cioè se una band io non faccio nomi ma tanti anni fa prima che io ebbi dei problemi di salute è una band che si chiama Blood Truth Blood Truth ok di Perugia li saluto Stefano Rossi Succi è un altro mio collaboratore che doveva andare in tour Coin Isle ok un tour bello grosso in Europa robe varie Death Metal estremo io non potevo andarci per una questione però l'idea è che fu contattato un chitarrista non farò nomi ok sicuramente non per parlarne male che un mese prima tra virgolette del tour balzò dicendo che non lo poteva più fare poi per paura poi per insicurezza poi per mancanza causando un problema enorme perché la band non c'aveva un altro chitarrista che doveva fare quella roba lì ok quindi il discorso è molto semplice se avessero avuto l'ardore l'ardire come si dice insomma quel che è di avere un contratto sarebbero potuti andare tranquillamente da un avvocato dire oh questo qua ha fatto una cazzata è un gran casino quindi magari con delle clausole vessatorie quello che è però ci siamo capiti quindi pattichiare amicizia lunga perché poi appunto la gestione della band nel lungo periodo concludendo un attimo il tutto vi ho dato una bella infarinatura oggi siamo oltre 40 minuti di contenuti appunto dipende molto anche dall'evoluzione delle persone tante persone come me nel frattempo a me adesso non interessa quasi più l'idea di suonare dal vivo sotto una certa ovviamente perché bisogna poi nel tempo ne parliamo in un'altra diretta magari come si promuove capire qual è il budget adatto per andare a suonare in giro e quindi quanto farsi pagare con senza IVA quindi con insomma in nero oppure no io tendenzialmente non mi faccio mai da tantissimi anni però insomma sono tanti scenari che vanno anche anticipati se una persona se ne va dalla band bisogna essere in grado di sostituirla prima possibile se è un musicista come è successo a me per esempio a una band di un mio carissimo amico e gran geniale chitarrista compositore Francesco Filigoi che saluto lanciò il suo progetto a Biogenesis nel 2016 con un grandissimo successo pronti per esplodere e il batterista se ne andò per andare in Francia a fare altre cose e fu una roba devastante perché non hanno più trovato nessuno in grado di suonare quella roba lì quindi facendo un piccolo recap va bene nel lungo periodo appunto come gestire un'azienda devi essere in grado di qui ne parlerò in un'altra diretta a altri contenuti legati al problematologico strategico e quindi anticipare anche delle situazioni che potrebbero diventare problematiche quindi è un lavoro ragazzi l'avrete intuito da tutte queste competenze che vanno poi piano piano sviluppate eccetera eccetera ma la cosa più importante appunto secondo me è capire tra virgolette qual è il nostro obiettivo perché molte persone appunto non riescono poi nel tempo a gestire progetti musicali complessi in una serie di mesi o anni proprio perché partono con un'idea e poi si rendono conto che è tutto in maniera completamente diversa spero che vi sia piaciuta la diretta noi ci vedremo molto 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 presto con nuovi contenuti video nuovi videocorsi e nuove dirette nuovi approfondimenti anche sul nostro sito mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non vi piace